E oggi siamo in compagnia di Mattia Bella rega, la mattita colpisce sempre Perché è lunga come il tubo Allora, stai zitto che ti tiro un calcio nel culo Eeeh Le succhi gastrici Allora Oggi, raga, nuovissima challenge Credo che nessuna l'abbia ancora fatta Credo che in Italia siamo al primo i matti, mi sa Quanto cotto Manco il piccio gamer l'avrà fatta Eeeh, no Eeeh, comunque Mi vuoi spiegare te questa challenge Dobbiamo nasconderci dai nemici Adatto Tutti i debiti Quello che c'è ne ti fa Ma attacca tu C'è, pisello, ciucciamelo Sembra un culo C'è, attaccati Guardiamo che fu Viene Ho capito, vaffanculo Adesso l'ho capito Lembriamo una chiappa L'altra chiappa a sinistra e chiappa a destra Noi a reddizione Ci dobbiamo nascondere anche dai nostri compagni Comunque Eh? L'analisi Dell'analisi Nuove comune No, l'analisi Lei ha posto analisi o l'analisi L'ho posto analisi Eh vabbè, mamma Se sei una giuccia Non mi caccolgo Sono in prima persona Ma è stato anche un'impostazione Come mettersi in prima persona Ma da dove? La, la, la Che troppo l'albero sfuggato Ma non ci dobbiamo far vedere Senti, ho L'ho ucciso Benny Non saprò mai più dove siamo Sottoterra Ma te dove sei sottoterra? Sono un uomo Molto pericolo E di che ragazzi E di che porco c'è Perdo la vita Mi sa per colpa che non riesco più a respirare Sì Non ci si un negro Brutto negrato Brutto negrato Mi dovrei scattare una cosa Brutto negrato Brutto negrato Brutto negrato stata attacca ora non sottottenere qua vuole che questi nemici sono piuttosto di quelli di prima ma sono fortissima cosa sì non sono messo il livello però non mi vuoi dare sopra che la cazzo ucciso 1 a nord sono al nostro livello fino a qua ma potrebbe essere pure di sì ora non si devono giudicare i nemici però perché se poi dopo ci fanno il culo c'è uno a est 49 33 bianco facciamela me un hit ma ti lascio meno me un hit ma ti nemmeno di sparare mio però che non trovo acceso vabbè e perfetto giamperina ok giamperina ha bisogno di uno scelgo scelgo non mi vedero guarda aspetta arriva un nemico da dietro ma ma è della nostra squadra è della nostra squadra è della nostra squadra matti ho trovato shadow che è shadow ma ti aiutami mi stanno ammazzando eh eh metti il medico ht cazzo ma c'è uno che si chiama devil non si chiama devil guarda devil trattino basso guardami e nella partita no 10 10 4 dai riusci a trovare ho sei kill c'è due su chialo no guarda guarda dove guarda dove c'è la gente cioè vai su option puoi vedere tutta la gente che c'è l'ultimo che c'è che ha 9 kill si chiama devil guarda ma mi fa quello che 9 kill si chiama devil vero devil ma se qua mi vuole copiare di banolaca non te l'ho capito no fra ma forse è un è un tuo iscritto che stai messo sul nome per quale un iscritto in più può darsi che magari è lui? può darsi io non lo so perchè io prima avevo 22 iscritti adesso c'è no 23 quindi qualcuno si deve essere iscritto no? si quindi vabbè non lo bannare poverino dai devil die ma può essere tipo anche quella devil 83 quel cinese la di merda lo sai chi è devil 83 quel cinese la? si però anche quando l'ho visto il video dove insulta più a bestie no no sto fucile di merda me lo deve succhiare come una figa io c'ho un 10 kill e te due comunque un nemico io c'ho un 10 kill e te due perchè mi sono incastrato ti è incastrato nell'albero nell'albero ok mi faccio muovere di che ti sei incastrato nel pena? nel cazzo e altro risparmi c'ho c'ho un carburo c'ho un carburo c'ho un carburo c'ho un carburo un carburo e vabbè io ho 14 kill e te ce n'hai due dai sveglia sono tutti i due numeri pari sono tutti i due numeri pari si cominci a che i devil ah no ah no mi auguro è vero andiamo in un'altra chat che forse ci sono gli altri che parlano andiamo c'è gente c'è gente no no un'altra chat aspetta aspetta ok ti siano? c'è fra c'era un bot davanti a me su qua spara a me ma non ho capito che ci siamo alleati 80 kill 86 kill obbiettivo 90 kill obbiettivo che ho fatto 18 kill 2 kill e faccio 20 kill fra una kill abbiamo vinto fra quale kill ho fatto? e non noi daramo a me già ho fatto l'arra che a me non c'è c'è